Questo video riguarda i migliori tre rulli per bigi. Il vincitore della qualità è il CXWXC rullo. Questa bicicletta da corsa dispone di un regolatore di riluttanza a sei livelli, compatibile con circuiti a sei velocità. Regolabile in base alle esigenze di allenamento. Molto facile da usare, è la scelta migliore per l'allenamento e il fitness a casa. Questo rullo da allenamento è dotato di quattro dispositivi di regolazione dell'equilibrio. Ogni dispositivo di bilanciamento dispone di cinque livelli di regolazione dell'equilibrio. Questo rullo da allenamento per bicicletta è realizzato in acciaio massiccio e supporta 1510 kg, il che rende la bicicletta più sicura e durevole durante l'attività sportiva. Adatto per gli amanti della bicicletta e per i principianti. Questa cicletta è facile da installare e utilizzare. È dotata di una leva a sgancio rapido con cui è possibile allentare le ruote posteriori in modo facile e veloce. Può essere ripiegata per riporla facilmente. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Sportner Rullo Bigi. Costruita con una base larga e una posizione bassa per un equilibrio irremovibile. Dispone di cinque piedini in gomma antiscivolo regolabili per uniformare qualsiasi pavimentazione sconnessa. Il design regolare e senza cuciture e la resistenza senza rumore fanno in modo che non è necessario aumentare il volume della musica quando cominci a faticare. Allenati secondo i tuoi standard con telecomando montato sulla barra e una curva di resistenza ad ampio raggio per simulare tutte le condizioni di ciclismo. Pronto a uscire? Basta premere il morsetto della leva di compressione per rilasciare e rimuovere facilmente la bicicletta. Ti preoccupa che non si adatti alla tua bicicletta? Non ti preoccupare! Il vincitore del premio è il Gym Fitness Rullo Magnetico. Usa questa fantastica attrezzatura a casa e non perdere mai la tua sessione di allenamento. Il rullo per bici rende silenzioso tuo allenamento, non disturberai mai familiari e vicini di casa. Il rullo per allenamento può essere piegato in dimensioni, compatte rendendolo perfetto per un facile trasporto e per essere riposte in casa non occupa molto spazio, quindi puoi ripiegarlo e metterlo facilmente nel bagagliaio dell'auto oppure dentro un armadio nella tua casa. Con 5 livelli di resistenza in modo da poter modificare la pedalata per soddisfare alle condizioni di ciclismo desiderate e godere di diverse esperienze di guida, di supporto stabile per supporto bici da terra funziona perfettamente per superfici irregolari. La resistenza magnetica progressiva contro la ruota posteriore della bicicletta rende lo spinning fluido e facile, rullo bicicletta allenamento è stabile e sopporta un carico massimo fino a 120 kg. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.